Buongiorno 12 puntuale l'informazione di tv 2000 vediamo subito i titoli di questa edizione approvato dalla camera il nuovo codice antimafia più trasparenza e regole certe ma sull'equiparazione di stalker e corrotti ai mafiosi è scontro You Soli tocca alla politica decidere ma la santa sede ribadisce i principi di accoglienza dei migranti così il segretario di stato vaticano cardinale Parolin che in mattinata ha parlato anche delle tensioni in Kurdistan dopo il plebiscito per l'indipendenza la piaga del rimorso che duole come il male fatto intorno a questa sofferenza Papa Francesco ha meditato questa mattina nella messa a Santa Marta la soluzione è fare come i bambini durante la confezione senza avere paura di dire la verità in apertura lo abbiamo detto il nuovo codice antimafia tra i provvedimenti diventa più veloce la confisca dei beni patrimoniali della criminalità organizzata e i corrotti vengono equiparati ai mafiosi critici Forza Italia e Movimento 5 Stelle ci dice tutto Federico Plotti con 259 sì, 107 contrari e 28 astenuti ieri la Camera ha dato il via libera al nuovo codice antimafia che così diventa legge già approvato a Montecitorio due anni fa e poi corretto nel luglio scorso ieri è passato senza modifiche nonostante l'incognita del voto segreto e soprattutto nonostante i malumori in primis di Forza Italia e poi di Renzi e dei Renziani in particolare c'è un articolo dei 38 che compongono il provvedimento a suscitare i mal di pancia più forti all'interno del Parlamento è quello che allarga la platea dei possibili destinatari delle misure di prevenzione e che prevede anche la confisca dei beni per chi ha commesso reati di corruzione, concussione, peculato, terrorismo e stalking i corrotti come i mafiosi, una misura liberticida protesta Forza Italia e come detto seppur con toni meno accesi anche Renzi e i suoi fedelissimi tutti chiedono a gran voce la possibilità di applicare delle modifiche anche se sarà difficile visto che il test ormai è stato approvato integralmente nessuna misura correttiva dunque e nemmeno all'orizzonte perché al momento mancano gli strumenti legislativi non sarà possibile farlo nella prossima legge di bilancio forse uno spiraglio si potrebbe aprire più tardi con una misura da inserire all'interno del mille proroghe ma è ancora tutto da discutere e tutto da vedere il ministro della giustizia Orlando dal canto suo va dritto per la sua strada e parla di un provvedimento giusto e necessario da oggi ci sono più strumenti per combattere la mafia più trasparenza nella gestione dei beni confiscati più garanzie per chi è sottoposto a misure di prevenzione dice stessa posizione anche per il presidente della commissione parlamentare antimafia Rosy Bindi negli Stati Uniti invece il presidente Donald Trump ha annunciato l'ambiziosa riforma fiscale che intende mettere in atto nei prossimi anni taglio drastico delle tasse per il ceto medio e abbassamento dell'aliquota per le aziende tutti i dettagli ce li dice Antonio Soviero Indianapolis, capitale dello Stato dell'Indiana che tradotto significa terra degli indiani dopo il doppio schiaffo sull'Obamacare e sulle primarie in Alabama Donald Trump riparte da qui annunciando le linee guida di quello che definisce il più ambizioso piano di taglio delle tasse della storia americana vediamo nel dettaglio la proposta la novità più rilevante riguarda le persone fisiche si passa da 7 a 3 aliquote dalla 12 al 35% per i meno abbienti raddoppia la deduzione a 24.000 dollari per le coppie e 12.000 per i single per l'azienda invece l'aliquota passa dalla 35 al 20% semplificati i benefici fiscali per pensione, lavoro e istruzione superiore via la tassa sulla proprietà e conservate le deduzioni sui mutui secondo il comandante in capo il suo taglio delle tasse rilancerà i consumi, l'occupazione e farà aumentare il PIL si tratta di un piano costoso almeno 2.200 miliardi di dollari e per l'opposizione farà crescere il deficit pubblico già in passato la strada della drastica riduzione delle imposte è stata approvata e i risultati sono stati sempre deludenti la riforma fiscale avrà quindi un cammino non facile nel congresso USA chiamato ad approvarla i democratici hanno già detto no e gli stessi repubblicani sono molto divisi rimaniamo all'estero andiamo in Giappone dove il premier ieri sera ha sciolto la camera bassa del Parlamento ha annunciato la data delle prossime elezioni che si terranno il 22 ottobre l'opposizione e il Parlamento in segno di protesta ha tentato di boicottare la sessione perché hanno detto lo scioglimento della camera creerebbe un vuoto politico in un momento di elevata tensione con la Corea del Nord torniamo in Italia andiamo a Palermo dove 400 studenti disabili hanno iniziato l'anno scolastico in ritardo perché senza trasporti dedicati e senza assistenza specializzata in aula nel mirino c'è la lentezza delle decisioni istituzionali Gaetano Riz Niente scuola per oltre 400 disabili una cinquantina dei quali in carrozzina è una storia che si ripete quella di Palermo la campanella suona puntuale ma non per coloro che sono costretti a vivere in una condizione di disagio denunciata da genitori esasperati l'elenco delle carenze di fatto è sempre lo stesso basterebbe quindi agire per tempo in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico l'assenza totale degli assistenti igienico personali dalle autonomia e comunicazione il trasporto non esiste gli insegnanti di sostegno anche quest'anno non ci sono e quindi difficoltà in cui i ragazzi incontrano giornalmente e si trovano spesati da questa situazione perché nelle scuole c'è un atteggiamento di insofferenza da parte degli insegnanti in generale dei bidelli e quindi loro vivono questa situazione con grossa delusione sul banco degli imputati le istituzioni preposte a garantire i servizi di competenza quello che chiedono gli alunni con disabilità è quello che chiedono tutte le persone con disabilità innanzitutto ricordano alle istituzioni di essere cittadini portatori di diritto e non oggetto di mera assistenza dopodiché chiedono alle istituzioni di anteporre le necessità di programmazione che per definizione si fanno per tempo alle necessità di natura economica e mentre gli uffici discutono per gli studenti disabili si profila un avvio di anno scolastico con almeno un mese di ritardo non finiscono i guai per la compagnia aerea irlandese la Ryanair rallenta il programma di crescita invernale si ritira dalla gara per l'acquisizione di Alitalia mentre annuncia nuove cancellazioni per i voli in programma fino a marzo del prossimo anno lascia a terra anche altri 400.000 passeggeri Luciano Piscaglia Ryanair rinuncia ad acquistare Alitalia e contrariamente a quanto ipotizzato non presenterà nuove offerte per la nostra compagnia di bandiera e questo per non distrarre i propri manager nel momento in cui annuncia anche nuove cancellazioni dei propri voli che costringeranno circa 400.000 passeggeri a rinunciare a viaggi e vacanze o a cambiare programmi e destinazioni in una nota la compagnia low cost ha comunicato che da novembre fino a marzo 2018 farà volare 25 aerei in meno e 10 in meno da aprile in poi l'obiettivo dichiarato è quello di rallentare il programma di crescita della compagnia che dovrebbe così avere nelle sue 86 basi gli aerei e gli equipaggi di riserva necessari per eliminare il rischio di ulteriori cancellazioni i voli cancellati da novembre a marzo dovrebbero essere circa 18.000 che si sommeranno ai 2.100 voli soppressi da metà settembre ad oggi che hanno lasciato a terra più di 300.000 persone ai passeggeri che si ritroveranno con il volo cancellato Ryanair promette una comunicazione almeno 5 settimane prima l'offerta di un volo alternativo o il rimborso con un buono di 40 euro per prenotare altri servizi sulle manovre di Ryanair sta vigilando l'Enac che ha annunciato sanzioni in caso di violazione delle norme che tutelano i passeggeri ma le associazioni dei consumatori sono sul piede di guerra e chiedono all'ente di creare un tavolo di conciliazione per il risarcimento dei danni politiche familiari in primo piano nell'agenda del governo da questa mattina è convocata la conferenza nazionale sulla famiglia Gentiloni nell'intervento di apertura ha riconosciuto il ruolo centrale dei nuclei italiani che hanno assorbito i numerosi cambiamenti sociali rimanendo il pilastro che sostiene il paese Augusto Cantelmi ci dice tutto grazie alle famiglie italiane per quello che hanno fatto in questi duri anni di crisi così il Premier Gentiloni alla conferenza nazionale della famiglia che si è aperta a Roma un ruolo centrale quello delle famiglie italiane per il Presidente del Consiglio anche per la capacità di mantenere coesione ed entità in un periodo storico caratterizzato da profondi mutamenti legati anche ai flussi migratori la famiglia pilastro della Repubblica che ha svolto un ruolo di supplenza aggiunge Gentiloni motivo per cui alcuni provvedimenti sono stati fatti per irrobustirla il dopo di noi il bonus bebè concedo parentale il reddito di inclusione per contrastare la povertà ma per il Governo non c'è più tempo per la tanto attesa riforma del sistema fiscale che conduca poi all'introduzione del fattore famiglia dalla Sindaca di Roma Virginia Raggi invece l'appello ad aiutare i giovani a creare una famiglia una richiesta che arriva soprattutto da chi non ha le condizioni economiche per crearsi una famiglia ed è un grido disperato al quale noi dobbiamo dare risposta è un parolin a tutto campo quello che questa mattina ha parlato ai giornalisti prima di intervenire alla conferenza promossa da aiuto alla Chiesa che soffre sulla ricostruzione a favore dei cristiani iracheni in questo servizio di Nicola Ferrante le risposte sul Yusso Soli rinviato in Italia e sulle tensioni post referendum in Kurdistan sentiamo l'Iraq e soprattutto la questione dei cristiani con uno sguardo espressamente al Kurdistan si aggrava la situazione per l'indipendentismo ma soprattutto qual è la posizione della Santa Sede in merito a quello che sta accadendo ricordiamo è terra di cristiani sì beh adesso durante il convegno cercherò di spiegare qual è la posizione della Santa Sede spera e opera perché i cristiani la maggioranza dei quali si sono rifugiati in Kurdistan ad Erbil possano ritornare nei loro villaggi della Piana di Ninive e questo in condizioni di sicurezza ecco quindi questa iniziativa che è stata lanciata appunto di ricostruzione dei loro villaggi e di un ritorno in sicurezza è un'iniziativa appoggiata e sostenuta dalla Santa Sede certamente la posizione di fondo come abbiamo sempre ripetuto è quella dell'accoglienza ecco sono fratelli che si trovano in necessità la maggior parte di loro e che quindi devono essere accolti però questo non vuol dire che poi nelle modalità concrete non si cerchino anche diciamo quelle come dire quei provvedimenti quelle misure che permettono di conciliare le diverse esigenze ecco in concreto l'Italia rinvia lo IUS soli però mette in campo un piano per l'integrazione come guarda tutto questo? io penso che questa è una posizione corretta ecco cercare appunto di trovare la maniera affinché non ci sia solo un'accoglienza ma ci sia anche un'integrazione che permetta veramente a queste persone di inserirsi ecco in maniera costruttiva nel tessuto della nostra società il rimorso della coscienza il dolore che genera sono stati al centro della meditazione di questa mattina del Papa a casa Santa Marta è il modo di affrontare le confessioni da parte dei bambini quel non avere paura di dire la verità sulla nostra vita che allevia le sofferenze di quelle piaghe che portiamo dentro sentiamo le parole di Papa Francesco noi dobbiamo permettetemi la parola battessare la piaga cioè darle un nome dove hai la piaga come faccio Padre per tirarla fuori ma prima di tutto prega Signore abbi pietà di me che sono peccatore e Signore ascolta la tua preghiera poi esamina la tua vita se non vede come dove c'è quel dolore da dove viene che è un sintomo come faccio chiedi aiuto a qualcuno che ti aiuti a uscire che esca la piaga e poi darle il nome io ho questo rimorso di coscienza perché ho fatto questo concreto la concretezza e questa è la vera umiltà davanti a Dio e Dio si commuove davanti alla concretezza Un'ultima ora prima di chiudere gli inquirenti della Procura di Roma hanno chiesto il rinvio a giudizio per la sindaca Virginia Raggi per l'accusa di falso documentale secondo i magistrati di Piazzale Clodio la prima cittadina avrebbe mentito all'anticorruzione del Campidoglio riguardo al caso di Renato Marra fratello del suo ex braccio destro Raffaele è il momento ora di terza pagina che incontra l'attore narratore Marco Baliani vi ringrazio vi lascio con questo servizio vi ringrazio per averci seguito al prossimo appuntamento con l'informazione non lo dimenticate e alle 18.30 grazie